lo spettacolo pirotecnico illumina la notte d'estate sul mare adriatico come ogni prima domenica di luglio pesaro si ferma con lo sguardo all'insù per ammirare i fuochi d'artificio della festa del porto una ricorrenza ultra secolare che mantiene intatta la sua partecipazione di popolo e soprattutto di un quartiere che si immerge mani e piedi in una settimana di celebrazioni che si concludono la domenica a partire dalla consuetudine del corteo di barche che si ritrova per il lancio in mare delle corone d'alloro in omaggio ai caduti la prima a largo della spiaggia di pesaro la seconda all'ombra della falese del san bartolo la solenne cerimonia religiosa in omaggio alla madonna della scala è stata questa volta celebrata da don marco di giorgio vicario del vescovo sandro salvucci assente giustificato in quanto convocato in vaticano per la santa messa celebrata da papa francesco a guidare il corteo di barche la queen elisabeth con la prima volta di alcune autorità dal nuovo comandante della capitaneria di porto nicola gaudino insediatosi a pesaro da un paio di settimane al nuovo sindaco andrea biancani è una delle feste più antiche d'italia sono oltre 400 anni che si fa questo tipo di manifestazione è un modo anche per sentirsi uniti per far parte di una comunità che quella del porto che è molto legata a questo tipo di iniziativa una manifestazione bella dove vedo che sono tantissime le famiglie che hanno partecipato molte bar che hanno partecipato quindi vuol dire che le persone sentono questa festa nel cuore e io ero la prima volta che partecipavo però sono stato molto contento devo dire che un'iniziativa come questa anche molto importante secondo me dal punto di vista turistico ai turisti soprattutto stranieri piace molto vedere queste quelle che sono le feste tipiche del nostro paese dell'italia questa è una festa tipica e quindi probabilmente dovremmo anche cercare di capire come fare per coinvolgere di più anche per i prossimi anni i turisti perché i turisti sono veramente affascinati da quelle che sono le iniziative che appunto si ripetono ormai da centinaia di anni e quindi potrebbe essere un'ulteriore possibilità tradizioni che si tramandano e che crescono ben oltre i confini pesaresi appartiene a questa categoria il concorso estemporaneo di pittura che caratterizza il sabato della settimana di festa del porto polverizzato il record di 71 partecipanti della scorsa edizione questa volta sono stati ben 85 i pittori provenienti da 13 regioni ad armarsi di tele e pennello per fornire la loro interpretazione artistica di uno scorso del porto nelle otto ore messe a loro disposizione nel concorso organizzato dal comitato quei del port la giuria ha premiato come prima classificata tatiana smirnova di padova in un podio completato da gregorio procopio di catanzaro e lello negozio di perugia il premio emma corvo è stato assegnato invece a franco susta di foligno a dipingere il porto anche 10 giovanissimi artisti insigniti di riconoscimenti speciali